Noi genitori siamo esasperati, io chiedo un corato proprio, sostegno a noi famiglie. Non chiediamo né soldi né niente, ma chiediamo assistenza ai nostri figli. Ad un mese dall'inizio delle attività scolastiche, solo ieri alcuni studenti diversabili degli istituti primari cittadini nel territorio urbano di Rossano hanno ricevuto la prima assistenza fisica ed educativa. Il servizio però, per come denunciano i genitori, continua a rimanere carente. Molti ragazzi che hanno la certificazione con il rapporto 1 a 1 gli vengono assegnate ore di meno, cioè 12 ore settimanali che vengono suddivise in quattro ragazzi, cioè è impossibile che possano fare un percorso lavorativo insieme a queste figure degli educatori. Le mamme chiedono una maggiore attenzione al comune, all'ufficio scolastico provinciale e per finire alla stessa azienda sanitaria, che dovrebbe farsi garante dei protocolli di assistenza per i diversabili. Deve farsi carico anche della richiesta dei medici. Sono medici che fanno queste richieste, non siamo noi genitori. Un bambino disabile non è facile per stare, non puoi fare nulla, non puoi lavorare, devi stare vicino. Ci sono assai assai problemi. Protocolli a parte, c'è la storia umana di queste famiglie che si consuma quotidianamente nel silenzio delle case, tra difficoltà, disagi e tanta solitudine. Io, sinceramente, pure con la salute non ce la faccio più e quindi perché questa non lo so. Marco Lefosse per la CNews24